Diversi cittadini mi hanno segnalato questo totale incuria in uno dei gioielli della nostra città che è la pineta di Ponte Metauro. Io voglio denunciare questi fatti perché veramente non rendono onore al luogo che è e mi chiedo per quale motivo le forze dell'ordine, soprattutto la Polizia Municipale, visto che è diversi anni che avvengono questi eventi e il primo di maggio non si è intervenuta per sanzionare chi ha abbandonato i rifiuti. Condanno perché purtroppo le istituzioni possono fare poco se non sanzionare tutte quelle persone che purtroppo hanno abbandonato i rifiuti in questo modo e oggi hanno costretto lavoratori, dipendenti pagati da tutti i cittadini di ASET probabilmente a ripulire le schifezze che hanno lasciato nei giorni scorsi. Purtroppo questi avvenimenti non dovrebbero succedere, mi auguro che sia l'ultima volta e mi auguro che dalle prossime volte appena si verificano queste condizioni le autorità preposte intervengono sanzionando chi abbandona i rifiuti in modo incivile.